Ciao a tutti, mi chiamo Pietro, giro questo video da casa mia dalla provincia di Milano e volevo portare la mia testimonianza per il percorso di Yuri di Self Publishing Supremacy. Ho 40 anni e dal 2019 che ho iniziato questo business, chiaramente con un altro percorso, però purtroppo i risultati non arrivavano. La mia media si aggirava intorno ai 200 dollari, dollaro più, dollaro meno. Stavo per abbandonare, poi però ho deciso, per fortuna, di cominciare questo percorso con Yuri e da luglio a settembre c'è stata la svolta, soprattutto a settembre adesso chiudo con poco più di 3.000 dollari, che comunque diciamo è un bel passo avanti. Che dire, quello che mi piace di più del percorso di Yuri è sicuramente che ti spiega le cose in modo semplice, molte già le conoscevo, però lui diciamo che ti dà delle chicche assolutamente perfette per dare il meglio nel business. Porto un esempio, praticamente un libro che vendicchiava, adesso è best seller nella categoria da più di due settimane più o meno. Niente, quindi per gli scettici o quelli che hanno ancora dei dubbi posso tranquillamente dire, suggerire di farsi seguire da Yuri, perché quello che ho percepito è che ci tiene veramente, che voi raggiungiate i risultati perché il vostro obiettivo diventa il suo obiettivo. Un saluto.